Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei parlare di questo oggetto che ho comprato questa settimana su Amazon. Mi serviva per vedere in una lamiera se passava dell'acqua e ne sono rimasto molto impressionato dal suo funzionamento. Funziona benissimo, si collega tramite Wi-Fi, si collega subito, quindi non ho dovuto tribulare. Ha la sua applicazione, vedremo come funziona la sua applicazione. I filmati sono in HD e si vedono in maniera discreta. Ora l'apriamo, vediamo cosa troviamo nella scatola e poi lo proveremo. Ci sono le istruzioni con il nome della sua applicazione che si chiama e-camera. Funziona sia su Apple che su Google Play Store. Funziona anche tramite computer, ma purtroppo tramite computer non funziona in modalità Wi-Fi. Nella scatola troviamo chiaramente l'endoscopio, che è lungo 10 metri. Io ho comprato il modello lungo 10 metri, qua c'è la marca. L'endoscopio è questo, ha 6 LED. È molto rigido, quindi si riesce a far passare in maniera comoda in qualsiasi posto. Qui questo serve per l'illuminazione, come vi avevo già detto c'è 6 LED. Tramite questa rotella si può decidere l'intensità della luce. Questo chiaramente si collega con una micro USB, si collega al PC direttamente da qua, oppure da questa piccola station, che sarebbe il modulo Wi-Fi. Da questa parte serve per caricare la batteria, perché funziona a batteria e dura all'incirca un'ora e mezza. Io l'ho lasciato andare, sono tornato dopo un'ora e mezza e la luce, vedete qui c'è un LED. Quando è blu vuol dire che è carico, che è collegato e poi funziona anche come lampada. Se tenete due colpi così, veloci, serve per collegarsi al telefonino. Due colpi per spegnere, ma se teniamo premuto funziona come torcia, vedete? Tenendo premuto si spegne. Allora, il collegamento viene fatto da qua, non collegatelo da qua perché ho provato e non funziona. Questa presa serve solamente per caricare. Il collegamento è molto semplice. Ricordatevi, colpo veloce. Dopo aver scaricato l'applicazione, vedete, è questa. Bisogna andare nelle impostazioni, wifi, vedete che vi trova subito l'endoscopio. No, aspettate, ho sbagliato, chiaramente. Ah, me l'ha fatto subito l'acquisizione perché avevo già fatto la ricerca, se no, se voi è la prima volta fate la ricerca. Poi andiamo nelle impostazioni. Le impostazioni sono due, sono semplicissimi, c'è per la risoluzione delle foto e dei video e per il settaggio del nome del dispositivo. Io ho lasciato il nome originale. Schiacciando start, fa una ricerca, come vedete, si collega subito, in maniera veloce. Questi sono i led, come vi dicevo. Vedete, si possono regolare, si regola l'intensità. Si possono scattare foto, vedete, così ho scattato foto. Da qua si possono far partire dei filmati, se si vuole registrare. E qua si vanno a recuperare sia le foto che i filmati, che chiaramente sono registrati nella memoria del telefono. Quando lo fate passare nei tubi, ovviamente ha la testa, però se per caso si gira in maniera che non è più comoda a voi, basta schiacciare questo bottone e come vedete si gira dall'altra parte. Niente, quel punto di domanda vi spiega, praticamente sono le istruzioni, quelle che trovate nel foglio. Adesso vi faccio vedere cosa c'è nella scatola e poi lo testeremo in un tubo, così vedrete come funziona. Nella scatola troviamo questo adattatore con presa USB e presa micro USB femmina, quello per caricare, che sarebbe la presa USB e la classica presa micro USB. Queste sono delle ventose, perché se vogliamo agganciare da qualche parte la station si può collegare da qua, vabbè questa è la garanzia, non serve. E poi troviamo questi tre piccoli oggetti che si collegano alla microcamera qua in alto. Ora ve li faccio vedere, sono praticamente, questa è una calamita, se dobbiamo andare a recuperare qualcosa in qualche buco. Questo è uno specchietto, chiaramente si collega alla fotocamera, si mette a vedere. E questo invece è un rampino, che serve se nel buco cade qualcosa e dobbiamo andare a recuperare. Ora prendo un tubo e vi faccio vedere come si vede all'interno e facendolo passare. Ora tramite un tubo vi farò vedere come funziona la telecamera e come si vede all'interno. Ho messo un pezzettino di ferro e ho aggiunto l'inserto con la calamita, così andremo a recuperare il pezzettino. Come vi avevo già detto bisogna schiacciare un colpo veloce e vedete che si collega subito il wifi. Ho notato che anche se apriamo l'applicazione andrà sempre in ricerca e non lo troverà mai. Ogni volta purtroppo bisogna entrare nelle impostazioni, andare nelle impostazioni, wifi, aspettare un paio di secondi e lui si collega poi in automatico. Vedete? Ora apro l'impostazione, schiaccio start e si collega. Come vedete si vede benissimo qualsiasi inserto noi colleghiamo. Vedete? È collegato, possiamo decidere la luce, l'intensità della luce, bassa o alta, scattare foto o anche fare un filmato. Il pezzo l'ho recuperato. Come vi dicevo, rendo scoppio, sono molto contento, funziona benissimo. Il cavo è bello rigido, dovete prepararlo all'inizio, altrimenti si forma la curva, tirarlo bene e metterlo in maniera rigida. Spero di essere stato di aiuto se a qualcuno interessa sia per robistica che per lavoro questo endoscopio, come vi ricordo che l'ho comprato su Amazon. Se avete qualche domanda scrivetemi qui sotto e sarò felice di aiutarvi e rispondervi. Grazie, buona domenica.